ciao eccoci di nuovo nel precedente video sono stati tralasciati degli accorgimenti accorgimenti che si possono chiamare upgrade che fanno parte dell'essenziale che sono un interruttore classico che non ho installato la scorsa volta è una maniglia per portarlo poi lo doterò anche di un temporizzatore per scandire temporalmente l'ozonizzazione dell'ambiente ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.